Rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di Nickwing Game quest'oggi credo che affronteremmo il boss di questa zona Mr. Scops o come si chiama abbiamo anche questo mini livello con la petta pian pianino ci stiamo recuperando tutte le gabbie che ci siamo lasciati indietro e continueremo a farlo fino a quando non le avremo recuperate tutte ma quest'oggi affrontiamo sto colosso ok beh con le freccine devo essere sincero è tutto molto più semplice recuperare le gabbie e quant'altro vabbè questa l'avremmo vista comunque aiaia che cazzo e mica avevo visto che c'erano le spine abbiamo sbloccato anche questa abilità c'è sta cosa strana che nell'originale mancava non era presente ma deve apparire la gabbie lì comunque sembra un livellino tranquillo con questa musichetta serena in sottofondo ma credo proprio che ci sarà da bestemmiare aiaia che cazzo aiaia che cazzo Comunque è pieno di gabbie qua, eh. Già tre gabbie, ragazzi. E ricordiamoci che ce ne servono almeno 120 per il prossimo potenziamento. Cuts. Cuts. Occhio. No. Ok. Fatta, 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 fatta. C'è qualcosa. C'è qualcosa. Qui sotto. Non lo so ragazzi, c'è una gabbia là sotto. E' chiaro. Io torno a scendere perché voglio capire dove sta. C'è una gabbia qui, ragazzi. E' per forza. Mi fanno queste carognate. Non riesco a comprendere. Qui. Ecco, sì, 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 è apparsa, è apparsa, zitti. Ehm, che cazzo. No. E fin qui ci siamo. Ma c'è un'altra gabbia anche qua, qua vicino. L'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. Non me ne vado fino a quando non la recupero, eh. Da qua, da qua, da qua, da qua, zitti, zitti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yes. Abbiamo ricoperto tutte le gabbiette, perfetto. Beh, così è molto più facile. Prendiamo anche il pacchettino. No! 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 Bastardo! Che c'è, bastardo Ho rischiato seriamente di morire Ma ce l'abbiamo fatta, vai C'è già il boss C'è già il boss Tiè Lo disturbiamo sempre, è inutile Mi ha già colpito Non conosco questo boss ragazzi Quindi Ma la salute non ce l'ha Dunque dobbiamo semplicemente Aia Sì Vabbè Non era necessario Ma adesso Adesso si combatte Seriamente Devo capire come evitare sti cosi No 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 mi becca Mi becca A meno che non devo Sì così 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 Ok Ok Eh non l'ho neanche colpito Ma perché lo manchiamo Scusa C'è qualcosa che non mi tocca Oh Devo aspettare un po' Però Dobbiamo rifarlo Ecco Sì Vabbè Abbiamo capito che Dobbiamo fare così Almeno In questa prima fase Poi fa cadere la palla Ci viene incontro Noi lo evitiamo E poi lancia il suo Aculeo Sì Siamo a metà Siamo a metà Attenzione Ma sicuramente adesso cambierà attacco Sì 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 Cazzo Eee Mica tre volte Mi apprezzo No Vabbè Così Ragazzi È problematica È problematica perché non riesco a Mech E' un'altra È niente È niente No Troppo in alto Questi errori non possiamo commetterli quando c'è la seconda fase Manco questo errore Manco questo errore Ok 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 Ah mi ha preso ma va bene Non va bene Non va bene Cazzo Uncchia no Vabbè ragazzi No 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 io a volte ho veramente boh ok qui era troppo in alto insomma non è che colpirlo da fermo senza saltare ho paura che mi becchi prima lui però allora il trucco è fare così mi ha preso mi ha preso però lui ha due punti salute io ne ho quattro quindi in teoria dovremmo farcela non lo so ok dai mi sento fiducioso ragazzi vai che ci siamo dai che ci siamo là si bisognava trovare la tecnica giusta e che cazzo adesso si che riposa felice oh e qua andiamo a playtopia playtopia non so come si pronuncia ragazzi ma è una nuova zona sono veramente curioso perché non ci sono mai stato abbiamo anche questa questo livellino con la petta ma adesso non la facciamo ci ho messo parecchio ci ho messo parecchio quindi direi che di fermarci qui non so quanto sarà uscito lungo l'episodio ragazzi si sarebbe mi avrebbe fatto piacere anche fare questo livellino sempre delle lo facciamo dai lo facciamo tanto non sarà lungo dobbiamo solo stare attento i piragni poi qui in teoria dovremmo solo recuperare il cappellino questo non fa cos'è bella foto ma stava là dove sta ah si sta qua ma vaffanculo e dai siamo qui apposta aia guardate come si sposta la telecamera ahi finito beh è stato un attimo dai meno male che l'abbiamo fatto dai oh e ci siamo tolti di mezzo anche questo perfetto no perché sono dei livellini molto brevi dove usiamo la petta nella zona in cui ci troviamo però ad esempio qui questo l'avevamo fatto questo livello ma è completamente inutile farlo se poi non prendiamo l'unico oggetto che ci da raccogliere ovvero il cappellino però lo rifaremo anche questo non che mi interessi recuperare tutti i cappellini per carità l'ho anche già detto e ripetuto più volte ma giusto per completare il tutto al 100% ma per completare al 100% dovremmo fare anche le sfide a tempo perché ogni cappellino ci da una sfida e quelle le sto proprio ignorando del tutto perché non mi interessa farle poi magari le faremo alla fine vedremo ma ragazzi io mi fermo qui con questo episodio voi come sempre fatemi sparare la vostra lasciate like condividete iscrivetevi al canale sempre se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti